Un saluto a tutti cari amici di YouTube, adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri del regno animale ma anche di epoca remota, di epoca antica. Vi volevo parlare di un animale alquanto particolare chiamato irace, detto anche procavia. Sarebbe un mammifero alquanto particolare, ora vi dico perché. Perché io sono stato sempre appassionato di animali sconosciuti, di animali particolari e questo animale è uno dei tanti perché a vederlo somiglia tanto una marmotta o un grosso topo. In realtà nel suo DNA, nella sua composizione ossea e nelle sue zampe è molto più vicino ad un elefante o a un sirenidi, il gruppo dei lamantini e dei dugonghi, piuttosto che ai roditori, ai mustelidi e ai lagomorfi. Innanzitutto iniziamo un po' nel dire che è un animale totalmente erbivoro, si nutre di foglie, di erba, di radici e di frutta. Ogni tanto mangia anche insetti. Quest'animale è stato erroneamente chiamato dagli olandesi ras, che significa tasso. In realtà non è della famiglia dei mustelidi. I fenici lo hanno chiamato irace perché somigliava ad un grosso ratto, irace, ratto, irace, ma non è un roditore. Gli ebrei, dopo parleremo anche di loro, lo hanno scambiato per un coniglio. Prima però diciamo che tempo fa esisteva anche in Europa, soprattutto Spagna e Portogallo. Per questo motivo i fenici hanno chiamato quella zona Ibericus, che deriva da Iberio, ratto, che riguardava secondo loro erroneamente questo piccolo mammifero dalle dimensioni di un coniglio ingrassato o di una marmotta. Anche i denti, che continuano a crescere a dismisura come le marmotte, come i castori, lo fa somigliare piuttosto a una marmotta o un castoro senza coda. Però, gli ebrei lo hanno confuso per una sorta di coniglio. Leggendo attentamente il libro del Levitico, capitolo 11, versetto 5, c'è scritto che non mangerai la carne dell'irace perché, anche se rumina, non ha l'unghia divisa. Per questo è un animale immondo, immondo significa sporco. Nel Levitico c'è una classifica, una categoria di animali che loro potevano mangiare, tuttora possono mangiare, di animali che non possono mangiare. Degli animali di terra possono mangiare tutti quelli che ruminano e che hanno l'unghia divisa, per dirla breve, i vitelli, mucche, buoi, capre, pecore. Ma non possono mangiare, come ho detto prima, l'irace, detta anche coregrillo. Nel Levitico a volte c'è scritto e viene riconosciuto come coregrillo. Io, essendo appassionato di animali mitologici, di animali che potrebbero esistere, i cosiddetti criptidi, sentendo la prima volta la parola coregrillo, sono andato ad informarmi, però non c'è scritto che cos'è. Sui vari motori di ricerca, se scrivete coregrillo, non ve lo dà, vi escono altre cose. Se invece scrivete irace, vi esce il nome di questo animale, chiamato anche procavia. Anche perché somiglia un po' a un grosso topo, ma non lo è. Come ho detto prima, è più vicino agli elefanti e ai lamantini. Già l'ho detto un sacco di... Altre cose che, secondo il Levitico, gli ebrei non possono mangiare sono vari tipi di insetti, però loro mangiano locuste, mangiano grilli e mangiano cavallette. Non possono mangiare tutti quegli animali che toccano con il piede per terra, con il piede non con l'unghia. Quest'animale qua che vi sto parlando è un plantigrado, un po' come gli orsi, che toccano con l'intera pianta del piede sul terreno. Un po' come gli elefanti, ha dei cuscinetti sotto i piedi. Per questo è più vicino agli elefanti piuttosto che alle marmotte, anche se somiglia una marmotta. Somiglia un cane della prateria, altro nome errato di un mammifero a quanto particolare. Però i cani della prateria non hanno niente a che fare con gli iracee, detto anche procavia. Allora, gli ebrei degli animali d'acqua possono mangiare soltanto i pesci, quindi non possono mangiare seppie, non possono mangiare i moscardini, non possono mangiare i polpi, nessun tipo di mollusco, neanche le vongole, le cozze, nessun tipo di mollusco possono mangiare, non possono mangiare neanche i crostacei, perché sono considerati immondi, siccome toccano sulla sabbia, toccano il terreno, mentre i pesci li possono mangiare perché sono considerati immondi, cioè puliti. I topi ovviamente sono animali sporchi e non li possono mangiare, la talpa è un animale sporco e loro non lo possono mangiare, in maiale ovviamente gli ebrei come i musulmani non lo possono mangiare purché all'unghia divisa, però non rumina, anche perché il maiale è un animale sporco, loro non lo possono mangiare, anche perché avevano ragione, a lungo andare la carne di maiale fa avvenire delle malattie, che fa avvenire tumori, ovviamente gli insaccati, che a lungo andare, anche per tutti i conservanti che ci mettono, fa avvenire vari tipi di malattie, diabete, ipertensione, insomma, gli ebrei non è perché li andava di fare, che hanno detto non mangiate questo, non mangiate quello, non è per quello, avevano ragione a dire che si possono mangiare pecore, capri e vitelli e non possono mangiare l'irace, il maiale, il cammello, avevano, vabbè, poi il cammello cosa ha di sporco, io non lo vedo come, io il cammello lo vedo come un animale pulito, rumina, ma non ha l'unghia divisa, tocca con i piedi a terra, ovviamente gli ebrei la sapevano lunga, nel levitico c'è scritto che sono immonde, pure le persone che hanno il tumore, le persone che hanno la lebra, le persone che hanno, adesso non mi viene in mente, è una malattia venerea, infettiva, non l'AIDS, non c'è scritto così, se leggete il libro del levitico, c'è scritto anche, che, quelle donne che hanno, per loro, le donne con le mestruazioni, sono considerate immonde, c'è anche scritto, non mangerai la carne al sangue, perché è considerata immonda, anche perché, a quei tempi, la carne col sangue, chi beve sangue, poi vomita, loro questo lo sapevano, ovviamente, la maggior parte, erano tutti vegetariani, tra cui, Mosè e Daronne, da quello che ho capito, lo erano, così come, anche Adam e Eva, erano vegetariani, se leggete bene, la Genesi, c'è scritto, però dovete leggerlo, attentamente, bene amici, cos'altro c'è da dire, sul, sulla procavia, sull'irace, sul cuore grillo, ho detto, abbastanza, bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso, dal gran mitico, ah, mi sono dimenticato, di dire, che volevo salutare, un mio amico, un amico, che mi segue, Kevin, Pelosi, un abbraccio, dal gran mitico,